In una città a Gela dove lavoro manca c'è chi aveva provato a crearlo, è il caso della società Eco Agri. Si stava progettando l'installazione di due impianti fotovoltaici per Serra in Contrada-Salleo per un totale di 8,4 MW su un'estensione di 170.000 m2. Avrebbe dato occupazione a 70 maestranze ed invece tutto fermo per la lentezza della burocrazia regionale. Amareggiato l'imprenditore Angelo Sorinitro, amministratore delegato dell'azienda. I progetti che l'hai presentato a Palermo, ai vari assessorati, che fine hanno fatto? Noi abbiamo inoltrato agli assessorati i progetti via posta. Il territorio ambiente mi ha protocollato il progetto a distanza di 25 mesi, il 27 dicembre del 2010. L'assessorato all'industria invece di indire la convenienza dei servizi entro 30 giorni come per legge me la indice dopo 520 giorni all'incirca. Tre volte i progetti sono andati smarriti, quindi non si capiva e non riuscivamo a capire come mai i progetti andavano smarriti. In più mi hanno fatto fare delle procedure di impatto ambientale non dovute poiché in Sicilia vige una norma che è solo per la regione siciliana per la quale gli impianti serricoli su terreno agricolo non sono necessarie autorizzazioni. Ma non la fattispecie, essendo un impianto di energia rinnovabile era necessaria l'autorizzazione unica. Ma tra acquisto del terreno e progetti presentati, la sua società quanti soldi ha speso? Abbiamo speso 550 mila euro, soldi buttati che non abbiamo potuto ricavare nulla, io e i miei soci e in quanto le lungaggini burocratiche, io non li definisco lungaggini burocratiche, io lo definisco terrorismo burocratico degli assessorati della regione siciliana a partire dal 2008 a fine del 2011 data quando mi sono state emanate le due autorizzazioni uniche. Ho adembiuto a tutti i miei doveri ma altrettanto la pubblica amministrazione non è stata all'altezza di fare loro il loro dovere. Ho visto poi dopo le indagini della magistratura della direzione riscettuale antimafia che avevano sequestrato e hanno sequestrato 43 imbianti riconducibili a prestanome di Matteo Messina Denaro e quindi noi eravamo lì per far sì che mi si veniva autorizzato un imbiando per la creazione di 70 posti di lavoro. Quindi l'unico progetto che all'epoca era il più grande d'Europa, che poteva essere un progetto, un fiore all'occhiello per la Sicilia, per lo sviluppo futuro, sia imprenditorialmente agricolo e sia anche per lo sviluppo delle regie rinnovabili sul nostro territorio. Domani al Tardi Palermo l'azienda gelese chiederà conto ragione sul ritardo immotivato che ha contrassegnato le fasi di istruttoria del procedimento. È un suo socio e in riferimento a quello che è accaduto negli anni si è tolto la vita. Sì, un mio socio a me mi duele il cuore per tutto quello che è successo, poiché ha creduto nel progetto. Non è possibile che in Sicilia stanno andando via tutti quanti, tutte le grandi imprese, l'Eni, la Versalist e quant'altri che stanno scappando dalla Sicilia per la cattiva e la mala politica, la mala amministrazione. E allora quando noi siciliani un giorno ci svegliamo per fare in modo che dobbiamo essere noi, attraverso la nostra capacità di fare in modo che la Sicilia rinasca con le nostre capacità, con la nostra intelligente, il nostro modo di fare e poi ti vai a scontrare con la pubblica amministrazione che fa di tutto per non farti lavorare.